San Gregorio di Nissa, o Nisseno, era il fratello minore di San Basilio Manio. Nacque intorno al 335 a Cesarea di Cappadocia, della sua giovinezza si conosce poco. Sappiamo però che volendo abbracciare lo stato ecclesiastico venne ordinato lettore, poi però si lasciò influenzare fortemente dalla cultura classica, specialmente da quella che viene chiamata dagli esperti la seconda sofistica, e abbandonando la sua prima destinazione, divenne professore di retorica e prese moglie. Suo fratello Basilio e Gregorio di Nazianzo, che si erano ritirati invece in solitudine ad Annesi, sulle rive dell'Iris, gli rinnovarono i loro appelli e lui finalmente decisi di raggiungerli. Forse allora era già vedodo e ha perso la moglie. Nel ritiro trascorse il suo tempo nella preghiera e nello studio dei grandi dottori, scrivendo il bellissimo trattato De Virginitate. Nel 370 il fratello Basilio, diventato vescovo di Cesarea, lo fece nominare vescovo di Nissa. E in quella regione lì, gli ariani, che erano ancora abbastanza organizzati, non tardarono a causare a Gregorio gravi fastidi. Arrivarono perfino a convincere il vicario del ponto, un certo De Mostene, che Gregorio dilapidava i beni della Chiesa, cosicché un sinodo riunito nel 376 lo depose e lo condannò all'esilio. Egli non poteva riavere la sua sede che due anni più tardi, facendovi per alto un ingresso trionfale, fare l'entusiasmo dei suoi fedeli, ne era stato e ne conosciuto all'innocenta, no? Nel 379 Gregorio partecipò al concilio di Antiochia, facendosi notare per la sua eloquenza e per le conoscenze teologiche. Poi fu inviato in missione nelle chiese del Ponto e dell'Armenia. Agli inizi del 380 assistette alla morte della sorella Macrina, sempre nel monastero di Annesi, che era stato fondato da lei. Nel concilio ecumenico di Costantinopoli, famoso nel 381, fu considerato dai padri la colonna dell'ortodossia. Morì intorno al 395, poco dopo un altro sinodo convocato nella capitale orientale nel 394, al quale pure aveva preso parte. Lui ha lasciato importanti scritti teologici, esegetici ed ascetici. Oltre a numerose omelie, che fanno di lui, agli esperti dicono, il più speculativo e il più profondo dei padri greci del IV secolo.